Piacerebbe correre con un vero volante da Formula 1? Adesso grazie all'Arcteam puoi. Arcteam, infatti, il leader mondiale nella costruzione di postazioni, volanti e accessori vari e ultra professionali, ha creato una vasta gamma di volanti adatti a tutte le esigenze completamente personalizzabili. Si parte dal più semplice, economico, fino al più complesso, che replica un vero volante da Formula 1 con tanto di LED, display, tasti aggiuntivi, frizioni e quick release. Arcteam, inoltre, ha creato la G25 Mod, una modifica per i volanti Logitech, che triplica la forza del force feedback, garantendo sensazioni ultra realistiche. Venite a trovarci sul sito www.f1driving.it o venite a toccare con mano i nostri prodotti presso il nostro showroom in Viale Brambilla 98 a Pavia.